Ormai non sento parlare di nient'altro, il nuovo shotgun introdotto da questa nuova season, da questo nuovo capitolo di Fortnite, amici, non sta piacendo praticamente a nessuno. Non c'è che dire, questa nuova season di Fortnite ha portato numerose novità, tra cui sicuramente quella più importante e quella della mappa, sono stati aggiunti oggetti e sicuramente sono state tolte alcune cose, come ad esempio la minigun, sono stati tolti alcuni boss molto potenti e quindi le loro armi leggendari e sono state introdotte altri meccanismi, tra cui appunto il nuovo charge shotgun, oppure fucile a pompa caricato. E attualmente ragazzi nel gioco vivono due tipi di arma a breve, corto, raggio che possiamo utilizzare, e cioè il fucile tattico e appunto il charge shotgun, e tutti tra uno e l'altro ovviamente scelgono il tattico. E questo perché ragazzi? Perché il charge shotgun è un tipo di fucile molto particolare, che ha pochi colpi e che in pochi sanno utilizzare. Eppure ragazzi, in molti se ne lamentano, ma in pochissimi sanno utilizzare correttamente quest'arma. Ed è qui che arriviamo noi di Sporty Tapation, che cerchiamo di darvi un aiuto, cerchiamo di correre in vostro soccorso. E quest'oggi andiamo a vedere alcuni tips, alcuni tricks, alcuni consigli per utilizzare al meglio quest'arma che sembra essere davvero molto poco apprezzata, ma che in realtà è davvero molto utile. E partiamo subito dalle cose proprio banalissime, e cioè quanti tipi di charge shotgun ci sono? Ci sono delle differenze tra questi, e soprattutto c'è un shotgun, un charge shotgun leggendario? Ragazzi, la risposta è ovviamente sì a tutto. C'è il charge shotgun che va dal bianco, poi arriva al blu, verde, viola e arancione, per poi arrivare al super leggendario, quello di kit, che è ancora più potente e che ha anche un bonus in più, come quello appunto dei colpi che può sparare. Perché sì ragazzi, una di quelle cose di cui tutti voi vi lamentate è senza ombra di dubbio il fatto che il charge shotgun abbia solo, solamente, tre colpi in carica. E questo, per chi non ammira, beh, è un gran bel problema. In fin dei conti il tattico piace molto di più, perché il suo ratio di fuoco è molto più ravvicinato, possiamo sparare molti più colpi, e allo stesso tempo, diciamo, ha una rosa, possiamo colpire con molta più facilità rispetto al charge shotgun. E questa è una cosa che ovviamente a molti non piace, come il sottoscritto che non ha una buona mira. Eppure ragazzi, il charge shotgun è un'arma fotonica incredibile. Infatti, come abbiamo appena detto, il quantitativo di colpi che possiamo sparare è solo tre. E pensate, per poter ricaricare completamente questo fucile passano ben 5 secondi e mezzo nella versione bianca, 5 secondi nella versione blu, 5 secondi a tre nella versione verde, per arrivare a quella più leggendaria con 4.5 secondi. Ed essenzialmente, ragazzi, è un bel po' di tempo, e il vostro avversario può tribellarvi con qualsiasi altra arma. Ed è qui che vi voglio dare il primo tips, ragazzi. Il charge shotgun è vero, ha poche munizioni dentro caricate, ma allo stesso tempo è molto più potente di un fucile tattico. Allo stesso tempo, ragazzi, voi potete caricare i colpi di questo fucile, perché anche il bianco sparato in torace, ragazzi, del vostro avversario, toglierà come minimo 89, il che è davvero tanta buona roba. Quindi, ragazzi, questo nuovo fucile è stato studiato, sì, per le brevi distanze, ma è stato anche studiato per darvi la possibilità di poter vincere ogni singolo fight con semplicemente un colpo ben assestato. Come vi dicevo, avete pochi colpi, ma questi pochi colpi possono fare davvero molto male. Non avete bisogno di smitragliare a destra e a sinistra, avete semplicemente bisogno di mira, avete semplicemente bisogno di tattica, avete semplicemente bisogno di prendere la mano col charge shotgun e vedrete che anche solo tre colpi sono più che sufficienti per vincere qualsiasi fight. Ma e molti di voi potrebbero dire, beh sì, basta avere mira, la fai facile tu. Eppure, ragazzi, il charge shotgun non è solo questo, non è solo grande potenza, è anche la possibilità durante gli scontri, come ad esempio quelli boxati, dove siete circondati da mura, oppure dovete andare alla caccia del vostro avversario, vi potrebbero dare davvero dei bonus molto importanti, come ad esempio il poter abbattere con un colpo la costruzione nemica, oppure iniziare a buttare giù la costruzione con un mitagliatore e poi subito partire col charge shotgun, dove vi voglio ricordare, ragazzi, che ci sono diversi tipi di danno ed è qui che arriva il secondo tips, e cioè iniziate a caricare il vostro charge shotgun ancora prima di vedere e mirare il vostro avversario. Questo che cosa comporta? Beh, questo comporta che il danno sarà massimo e allo stesso tempo appena il vostro nemico sarà inquadrato nel vostro mirino, voi fate fuoco e vedrete che anche se la distanza è abbastanza ragguardevole, un quantitativo molto importante di danni glielo farete poco ma sicuro. Allo stesso tempo, se siete circondati da un muro avversario e questi stanno per venirvi a prendere, beh, non abbiate paura in nessun caso, perché potete iniziare a caricare il vostro shotgun e appena lui butta giù la parete, beh, sparategli un bel colpo in faccia, vedrete che non avrà più tanta voglia di venire a prendere la vostra pellaccia. Ecco, il fatto di caricare o no lo shotgun è qualcosa che, ragazzi, dovete valutare con estrema attenzione. Perché? Perché sì, la possibilità di caricarlo viene a vostro favore, poco ma sicuro, ma allo stesso tempo se l'avversario inizia a caricare il suo shotgun, beh, state molto attenti, perché anche a voi questo fucile farà davvero molto male. Per cui, ragazzi, occhio, ma soprattutto orecchie spalancate. Dovete stare attenti. Appena sentite il rumore di questo fucile a pompa, beh, state in campagna. Non sbucate fuori all'improvviso. Al massimo, ragazzi, utilizzate le coperture, utilizzate l'editing, per cercare di capire dove sta mirando il vostro avversario. E per ultimo, un trucchetto che ho visto fare a diversi pro gamer. E qui, ragazzi, un trucchetto che potete eseguire solamente se avete mouse e tastiera. Appunto, diciamo, la periferica per eccellenza di tutti quelli che giocano ad alto livello su Fortnite. E qual è il trucchetto? Beh, voi dovete andare sulle impostazioni. Andate sulle impostazioni di fuoco, che in teoria dovrebbero essere il grilletto sinistro del vostro mouse. E in parte, dato che potete assegnare un altro tasto, quindi due tasti contemporaneamente al grilletto del fuoco, beh, selezionate scroll up o scroll down. Questo che cosa vi permetterà di fare? Vi permetterà di, appunto, avere più velocemente accesso alle due modalità di fuoco del shotgun. Una modalità, appunto, molto più veloce, che vi permetterà di sparare un piccolo colpo, non a piena potenza con il charge shotgun, oppure la seconda modalità, tenendo premuto il grilletto del fuoco, e appunto sparare a piena potenza. E questo che cosa comporta? Ma ragazzi, è ovvio. Vi permetterà di avere le due modalità di questo fucile, praticamente, a portata di un click. Il primo, tenendo premuto, avrete piena potenza. Nel secondo, invece, potrete tranquillamente sparare dei colpi davvero molto potenti, anche se non caricati, in faccia al vostro avversario. E se editate con estrema attenzione, come state vedendo in questo video, beh, potete abbassarvi e poi rialzarvi, utilizzare scroll up oppure scroll down, e gli tirerete facilmente una fucilata in faccia al vostro avversario. Bene, ragazzi, questo è il tips giusto. Questo è il tips che sono riuscito a trovare dai pro gamers. Questo è il tips che assolutamente dovete provare, ma soprattutto imparare. Insomma, come avrete capito, è facile lamentarsi del charge shotgun, è facile lamentarsi di tutte le decisioni che Epic ha portato avanti, ma è molto più costruttivo per noi che vogliamo migliorare, vogliamo vincere le nostre battle royale, imparare al meglio a utilizzare tutto quello che Epic e questo gioco ci hanno fornito. E senza ombra di dubbio, ragazzi, questi tre tips vi saranno davvero molto utili. Beh, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se li utilizzerete, fatemi sapere se vi sono stati utili. E noi ci vediamo in un prossimo mega video qui su eSport Itapation. Ciao!